Oltre alle mobilitazioni di piazza come l'ultima del 7 ottobre, vogliamo riempire il nostro percorso che vada adesso al 17 novembre, il giorno in cui torneremo in piazza per la giornata mondiale del diritto allo studio con altre iniziative. Faremo un'assemblea pubblica ad Ascoli per spiegare un po' qual è il movimento che sta nascendo dopo il 15 ottobre e spiegare quello che c'è dietro e fare un'analisi sul movimento passato e qual è il movimento di adesso, le diverse modalità di protesta, indagando anche su cos'è quello dell'indignato e comunque facendo un'analisi molto profonda sul movimento di protesta a livello mondiale. Poi faremo una serie di cineforum su temi di attualità, il primo che abbiamo in programma è uno sull'economia e come l'economia incide sul diritto allo studio e sulle nostre condizioni di studenti e di cittadini, ma anche su altri temi come per esempio l'apartheid, visto che è il ventesimo anniversario, sulla pena di morte, sull'omofobia e su altri temi comunque di attualità molto importanti. Il 9 novembre faremo un sit-in per rilanciare l'importantissimo tema dell'edilizia scolastica perché nel nostro paese comunque le scuole ormai possiamo dire che cadono a pezzi perché il 40% delle scuole non sono a norma e sarebbero da ristrutturare. Se pensiamo che in Italia si evadono 50 miliardi di euro all'anno e ne basterebbero 20 per rimettere a posto tutte, ci sembra importante ribadire che la nostra sicurezza per l'edilizia scolastica è comunque un tema da riportare su piani alti perché comunque è una cosa molto importante. Poi il 12 novembre faremo una lezione in piazza per parlare del diritto allo studio e per spiegare alle persone cosa significa per noi cultura e perché noi possiamo dire che la cultura è lo strumento più importante nella nostra società per comunque riprendere in mano il nostro paese come studenti e per tornare protagonisti e per tornare ad avere un ruolo comunque nella rinascita di questo paese sia sociale che economica che politica ovviamente. Poi il 17 novembre come ho già detto saremo in piazza di nuovo, questa volta ad Ascoli sempre una manifestazione provinciale e saremo in piazza appunto sia Robin Hood e la Fenice che sono le due associazioni che compongono la rete degli studenti medi Piceni per riportare temi importanti come appunto l'edilizia scolastica, il welfare studentesco, la situazione per esempio dei trasporti a livello provinciale che è una situazione pessima. Abbiamo esempi di treni che comunque dovrebbero caricare più di 200 studenti e si trovano a caricarli con una carrozza soltanto e che magari lasciano degli studenti che alle 7 del mattino a piedi perché appunto non c'è posto o comunque studenti che pagano 500 euro di abbonamento e si aspetterebbero almeno di potersi sedere in pullman e invece si trovano a stare in uno spazio limitatissimo se appunto il pullman non è troppo pieno e riesce a caricarli e magari arrivano anche in ritardo di intanto per esempio mezz'ora oppure tre quarti d'ora e questo non ci sembra decisamente possibile. Per il resto continueremo per tutto il nostro percorso per tutto l'anno a riempire la nostra vita associassionistica con eventi culturali e sindacali e ripetisco che saremo al fianco degli studenti ogni volta e per ogni tipo di problema noi siamo qui perché appunto vogliamo dare un aiuto concreto a tutti gli studenti essendo un sindacolo studentesco.